buona domenica e bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi è successa una roba incredibile come sapete ho puntato e punto tuttora in questa season a raggiungere il livello 340 perché il livello 340 perché è quello che servirà per ottenere la skin della gente bananita totalmente d'oro vi ricordo che dal 100 al 140 diventa oromidas dal 140 al 180 brutus dal 180 al 220 miascolo dal 220 al 2 e 60 sky dal 260 al 300 nitroglicerina e dal 300 al 340 la banana solo che ho appena raggiunto il livello 200 e guardate che cosa è successo bronc mi ha dato uno standard non l'aveva a quanto mi risulta non è stato mai detto da nessun leakers solo che mi dice hai raggiunto il livello 100 non so se sia un errore sicuramente di grafica ma se me lo vado a riscattare voglio vedere se ce n'è un altro non ce n'è altri ragazzi ma è tanta tanta roba perché lo andiamo a vedere e guardatelo un po' è qua su battaglia reale sicuro questo è il livello 100 e questo è il livello 200 di questa season insomma ragazzi una figata che va a mettersi in più nell'armadietto una piccolezza che sicuramente non può che farci piacere io vi ringrazio per avere guardato questo velocissimo video spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e io sono in live sulla piattaforma viola adesso ciao